La battaglia è inizio. La cellula del Dezek a cui il 404 vuole sottrarre i dati è in zona. Avvicinatevi e potrò occuparmene io. Download iniziato. Cercate di comportarvi come se nulla fosse almeno questa volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muovete il culo e non fatevi fregare. Qui è tutto a posto. Procedo. La troverò. Abbiamo quasi finito. Incredibile come avrà fatto ad andarsene. Non fare caso a me sto solo inserendo i dati della tua prestazione. Guarda, hai vinto! Guida automatica attivata. Download iniziato. Guida automatica disattivata. La squadra ti dà il benvenuto per il momento. Non lasciare che ti vedano. che cazzo è successo? Oh cazzo. Sembra grave. Grazie, non stai bene. Fatti aiutare. Oh mio cielo. Sei calma. Calma tesoro. Lascia che ti dà una cosa. No, ti sto ascoltando. Sì, l'ho lasciato in cucina. Mandate qualcuno! Tutti qualcuno! C'è un'emergenza qui! Sì, l'ho lasciato in cucina. Sì, l'ho lasciato! No, no, per favore! Oh Cristo! Piano! Ti aiuto io! Cazzo! Che è successo? No! No! Ma che succede? Ehi! Chiamati aiuto! Ma... Quinto! Sembra grave. Fatti aiutare. Cazzo! Che è l'assene! Ce l'abbiamo quasi fatta Scusa, non volevo Che cos'ha in testa, eh? Che stai facendo? Il più è fatto ormai, avanti Carico i dati Contratto del 404 completato Abbiamo finito Sì, sì Allora, non vado a rotoli Cosa fai? Ballo senza vergogna Oh sì, uh-huh Lascia uno spazio per respirare Guida automatica attivata Guida automatica attivata Guida automatica disattivata Guida automatica attivata Il contratto è stipulato È un piacere averti in squadra È un piacere averti in squadra Sei a metà dell'opera Sei a metà dell'opera Penso che sì Se non l'altro posso fargli una voce E non sono lì seduto in mezzo alla mia vita È un piacere averti in squadra Manca davvero poco, ci siamo! Hai ricevuto i dati? Il 4-0-4 ne sarà felice, ma non credo che l'altra cellula del Dezzec lo sarà. Oh! Oh!